Carissimi amici di Fede Cultura, ben trovati a questo consueto appuntamento del sabato pomeriggio per leggere e commentare, provare a fare qualche riflessione insieme sul Vangelo che la Chiesa proclama durante la celebrazione della forma straordinaria del rito romano in occasione della messa domenicale, domani siamo già arrivati alla terza domenica del tempo di avvento, prendiamo in mano la nostra copia del messale festivo tradizionale su Morum Pontificum che contiene il proprio, cioè le preghiere e le letture proprie appunto delle soledità, delle domeniche, delle feste, del calendario tradizionale cattolico romano e siamo a pagina 76, dove troviamo appunto la sequenza del Vangelo proclamato nella terza domenica di avvento e domani la sequenza di Vangelo sarà tratta dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo dai versetti 19 a 28, come sempre leggo dalla traduzione italiana. Sapete che nel nostro messale festivo ci sono naturalmente, come è necessario per il rito della messa tradizionale, ci sono i testi in latino e poi scritti in corsivo le corrispettive traduzioni in italiano. Grazie a tutti. In quel tempo mandarono sacerdoti e leviti da Gerusalemme a Giovanni, si parla di San Giovanni il Battista, per domandargli chi sei? Ed egli confessò e non negò, e confessò non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Elia? E disse, non lo sono. Sei il profeta? E rispose, no. E allora gli dissero, chi sei? Così che possiamo riferire a chi ci ha mandati. Cosa preparate la via del Signore? Come disse il profeta Isaia? E quelli che erano inviati erano dei farisei e lo interrogarono dicendo, come dunque battezzi se non sei il Cristo né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete, che verrà dopo di me, ma che esisteva già prima di me, cui non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. ciò avvenne in Betania, oltre il Giordano, dove Giovanni stava a battezzare. Bene, per la seconda volta di seguito la Chiesa ci propone come modello di avvento la figura di questo grandissimo santo del Nuovo Testamento, cioè San Giovanni Battista, il precursore, cugino secondo il sangue di nostro Signore Gesù, ma precursore, cioè colui che doveva appunto, come abbiamo sentito da sequenza di Vangelo, ma come sappiamo anche da altri brani, colui che doveva preparare la strada al Signore, alla sua venuta, al suo avvento. Quindi sì, è vero, il periodo liturgico dell'avvento ci prepara a ben comprendere ed accogliere il mistero dell'incarnazione, della nascita corporale di Gesù, della venuta di Gesù nella storia, ma questa venuta ci rimanda ad un avvento più importante, che è l'avvento di Cristo nella nostra vita. E come viene Cristo nella nostra vita? Tramite la giustificazione, giustificazione che si realizza con l'adesione alla fede insegnata da Cristo agli apostoli e trasmessa dagli apostoli ai vescovi e tramite i vescovi a tutto il popolo di Dio e poi tramite i sacramenti, in particolare il sacramento del battesimo, che ci libera da ogni macchia di peccato originale ed è pegno dalla risurrezione futura. Leggiamo nella sequenza di Vangelo di domani che i parisei mandano da Gerusalemme, che è la capitale del popolo ebraico, la sede, il centro cultuale dell'antico Israele. Questi parisei mandano degli emissari, e non degli emissari qualunque, mandano dei sacerdoti e dei leviti, quindi delle persone competenti che conoscono la Tanakh, come si dice in ebraico, cioè la legge e i profeti. Li mandano al cospetto di Giovanni, il battista, non l'apostolo, quindi non l'evangelista, che in quel periodo stava battezzando nel fiume Giordano nei pressi di Betania. Il ministero di San Giovanni si stava facendo sentire molto, aveva molta fama, persino una fama superiore a quella dello stesso Gesù, è la ragione prestodetta. Giovanni il battista era figlio di un sacerdote molto rispettato del Tempio, di Zaccaria. Apparteneva alla tribù di Levi, quindi ecco, era grande la stima, anche che a quanto pare è il parere di San Tommaso, che scrive, San Tommaso d'Aquino, che scrive un bellissimo commento al Vangelo secondo San Giovanni, e concorte con quando sto per dire, cioè dal Vangelo appare evidente che San Giovanni il battista era stimato dalle autorità ebraiche. Forse sotto sotto speravano che Giovanni il battista fosse il Messia promesso sin dall'inizio, da Dio a Israele e all'umanità tutta. Ecco perché vediamo che quando questi emissari dei farisei raggiungono San Giovanni, alla domanda apparentemente molto generica chi sei, San Giovanni gli dà una risposta molto particolare. Dice, non sono il Cristo. L'Evangelista scrive, riconobbe e non negò e confessò, non sono il Cristo. In questo modo l'Evangelista ci vuole dire che San Giovanni in realtà aveva capito le intenzioni di quegli emissari e dei mandanti, cioè dei farisei. Si aspettavano che San Giovanni rispondesse sì, sono io il Cristo. E possiamo immaginare la tentazione che il diavolo in quella circostanza propone nell'orecchio del battista. Dopo tutta quella riverenza San Giovanni poteva benissimo presentarsi come il Messia promesso. Tanti gli avrebbero creduto, forse addirittura i farisei, ma San Giovanni è testimone della verità e dice non sono il Cristo. Allora questa prima botta tra domanda e risposta ci dà un primo indizio del messaggio che la Chiesa vuole darci proclamando questo Vangelo. Cioè la prima grande virtù che San Giovanni Battista ci vuole presentare è una virtù fondativa della nostra vita devota, della nostra vita cristiana, cioè la virtù dell'umiltà. San Giovanni anche di fronte alle tentazioni di gloria, di vana gloria, anche se una gloria mondana, anche se ammantata di vesti soprannaturali, religiose, sono vesti fasulle, sono solo apparenze, di granzi a questa tentazione San Giovanni rimane fermo nella professione della verità. Dice non sono il Cristo. Va bene, ma questi emissari vogliono sapere dal Battista chi egli sia, non chi non è. E pertanto rincarano la dose. Chi sei dunque? Elia? Perché fanno questa domanda a San Giovanni Battista? Perché all'epoca di Gesù molti ebrei, influenzati dalle dottrine elleniche, cioè le dottrine greche, che circolavano soprattutto da quando Alessandro Magno aveva fondato il suo impero dalla Macedonia, giunse fino ai confini del fiume Indo, aveva esportato tantissime religioni, tantissime credenze filosofiche, era un vero e proprio impero multietnico e questo ellenismo sopravvisse alla morte prematura del grande imperatore Macedonia, Alessandro Magno appunto. Rileggete, vi invito a rileggere i due libri dei Maccabei dell'Antico Testamento, che parlano proprio dell'epopea di Giuda Maccabeo e dei suoi fratelli che muovono guerra contro gli invasori, contro gli invasori che vogliono costringere i giudei a tradire la legge, a tradire la religione dei propri padri. Ecco, quindi all'epoca di Cristo molti ebrei, influenzati da queste dottrine di origine greca, ma anche da dottrine orientali, avevano contaminato la religione ebraica con credenze pagane, tra cui la credenza nella reincarnazione. Alcuni ebrei credevano al tempo di Gesù nella reincarnazione. Ora si dà che nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Malachia, al capitolo 4, versetto 5, leggiamo questa profezia. Il Signore dice tramite la bocca del profeta Malachia, ecco, io manderò a voi Elia. E quindi molti ebrei, leggendo queste parole del profeta Malachia, pensavano che Elia si sarebbe reincarnato poco prima dell'avvento del Cristo. Questa era un'idea piuttosto diffusa al tempo di Gesù. Ma c'era anche un'altra idea. Noi sappiamo, leggiamo, nel secondo libro dei re, al capitolo 2, versetto 11, leggiamo, mentre camminavano conversando, si parla di Elia e del suo discepolo, ecco, un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Quindi noi sappiamo che Elia non morì come tutti gli altri uomini, ma fu rapito al cielo, fu assunto in cielo, come era già avvenuto, tra l'altro, prima di lui, per il patriarca Enoch. E visto quanto scritto nel secondo libro dei re, molti sacerdoti, molti sacerdoti ebrei, credevano che il ritorno di Elia, di cui parla il profeta Malachia, è in realtà una ridiscesa dal cielo di Elia che sarebbe venuta prima dell'avvento di Cristo. San Giovanni però dice a questi emissari non sono Elia. Ora questa risposta di San Giovanni Battista, se conosciamo il Vangelo, deve suonarci strana. Perché? Perché lo stesso Gesù dice di lui, nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 11, versetto 14, dice, se lo volete accettare, in riferimento a Giovanni Battista, se lo volete accettare, lui è quell'Elia che deve venire. Quindi Gesù sta dicendo sì, lui è l'Elia, è Elia di cui parla il profeta Malachia. Allora perché Giovanni Battista, alla domanda di questi emissari, dei farisei, dice no, non sono Elia. Dicono i padri della Chiesa. Perché Giovanni Battista qui sta rispondendo non alle parole degli emissari, ma all'intenzione della domanda. Cioè questi illustri, fini teologi dell'epoca, credevano o nella reincarnazione o nel ritorno fisico di Elia. Ma nessuna delle due interpretazioni è corrette. E quindi Giovanni Battista dice no, non sono Elia, non sono la persona fisica di Elia, come voi intendete. Allora in che senso Gesù poi dice nel Vangelo secondo Matteo che Giovanni Battista è quell'Elia che deve venire. Questa domanda ottiene in realtà risposta per bocca dell'Arcangelo San Gabriele, come leggiamo in un altro Vangelo, che è il Vangelo secondo Luca. I nemici della Chiesa, anche dentro la Chiesa, i teologi modernisti e neomodernisti, dicono che i Vangeli si contraddicono. Dicono così perché hanno una visione parziale della scrittura oppure agnostica, terrena, orizzontale. Non è la lettura che dobbiamo avere noi cattolici che crediamo che la scrittura è parola di Dio e quindi è ispirata da Dio. E dicevo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo primo, versetto 17, così dice l'Arcangelo San Gabriele al padre di San Giovanni, cioè Zaccaria, egli andrà davanti a lui con lo spirito e il potere di Elia per far tornare i cuori dei padri verso i figli. Bellissimo questa espressione, far tornare i cuori dei padri verso i figli. Ci sarebbe tanto da dire su questo versetto. Non lo facciamo, non possiamo farlo adesso. Quanto è attuale questo versetto? Allora, cosa vuole dirci San Gabriele? Elia non fu presente realmente, fisicamente, nella persona di Giovanni tramite reincarnazione o perché Elia era ridisceso dal cielo così come era salito. No, San Giovanni Battista è Elia secondo la somiglianza delle opere. E questa somiglianza in cosa viene rappresentata? Da un'altra virtù. Siamo così alla seconda virtù. Abbiamo detto prima virtù l'umiltà. La seconda virtù è lo zelo. Elia dice nel primo libro dei re, al capitolo 19, versetto 10, dice io ho un grande zelo per il Signore. Che cos'è lo zelo? È il fervore che spinge il credente a difendere la verità, la giustizia, la misericordia a tutti i costi. Anche San Giovanni Battista, proprio come il profeta Elia, bruciava di zelo, di questo fervore per la verità, tanto che lo sappiamo, abbiamo detto anche domenica scorsa, ha dato la vita per la verità. Dunque, seconda virtù, lo zelo. E poi c'è la terza domanda. I farisei chiedono a San Giovanni, sei tu il profeta? Attenzione, non dicono sei un profeta, un altro profeta. Il profeta. A quale profeta facevano un riferimento? E l'interimento è al libro del Deuteronomio. Al capitolo 18, al versetto 15 di questo libro della legge, quindi cinque libri della Torah, più importanti dell'Antico Testamento, leggiamo che Mosè dice il Signore farà sorgere per voi un profeta. E alcuni teologi del tempo, malinterpretando questo passo, pensavano che poco prima dell'avvento del Messia, Dio avrebbe mandato un profeta, anzi il più grande dei profeti. Quindi questo è il riferimento. Sei tu il profeta? In realtà oggi noi sappiamo che quei teologi ebrei avevano male interpretato questa profezia di Mosè, perché il profeta a cui si fa, a cui Mosè faceva riferimento, è lo stesso Cristo Gesù, che è allo stesso tempo sacerdote, re e profeta. Anche in questo caso San Giovanni risponde negativamente, dice no, non sono io quel profeta. In effetti quel profeta a cui faceva riferimento Mosè è Gesù. E tuttavia bisogna dire che San Giovanni Battista era un profeta, tanto che Gesù dirà di lui nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 11, versetto 9, Gesù dirà di lui, è il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, nella seconda domenica di avvento. Cosa vi ricordate? Gesù dice che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Poi dice avete siete andati a vedere forse un profeta? Sì vi dico, anzi più che un profeta. Perché dice più che un profeta? Perché i profeti dell'Antico Testamento, come pensiamo ai grandi Isaia, Geremia, Daniele, Ezechiele, i profeti dell'Antico Testamento annunciavano le cose future riguardanti evidentemente il Cristo, il Messia, ma San Giovanni annunciava il regno di Dio che ormai era divenuto vivo e presente, non più futuro, presente in mezzo a Israele. La terza grande virtù? La testimonianza, la natura profetica di Giovanni il Battista che è superiore rispetto a quella dei profeti dell'Antico Testamento. Un amore per la verità, un amore per la verità. Quanto è necessaria questa virtù oggi? Dobbiamo farla nostra non solo per il periodo di avvento e di Natale, per tutto l'anno, anzi per tutta la vita. Oggi c'è bisogno di testimoni, di testimoni. E queste tre virtù, umiltà, zelo e amore per la verità, che poi significa amore per la giustizia, sono condensate nella descrizione che San Giovanni dà subito dopo di se stesso, perché poi gli emissai dicono ma allora tu chi sei? Dici chi sei? Perché così possiamo tornare a Gerusalemme, possiamo tornare dai nostri principali e dire chi sei caro Giovanni. E cosa risponde San Giovanni? Una frase famosa, ma bella, molto bella, su cui meditare. Sono una voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, come dice il profeta Isaia. Sono una voce che grida nel deserto. San Giovanni dice di essere una voce, non la parola, la voce. Ora, una voce, che cosa è? È un suono, no? Ma la voce, considerata in se stessa da sola, non ha alcun significato se non viene modulata per diventare parola. Tutti noi cristiani con il battesimo partecipiamo della natura regale, sacerdotale e profetica di nostro Signore Gesù Cristo. Questo è chiaro, questo è insegnamento della Chiesa. Siamo tutti quindi in misura diversa, in base ai ruoli che riceviamo nella società e nella Chiesa. Siamo tutti chiamati a essere profeti. Profeta, la parola greca profeta, deriva da un verbo greco, profemi, che vuol dire parlare al posto di qualcuno, per conto di qualcuno, meglio parlare per conto di qualcuno. Il profeta è colui che parla per conto di qualcuno, cioè di Dio, è colui che parla per conto di Dio. Questo dobbiamo fare. Diventare voce, come fa San Giovanni Battista. San Giovanni, il cristiano è la voce, ma la parola è Gesù. Cristo è la parola di Dio. Noi siamo il mezzo affinché questa parola possa essere ascoltata e accolta dagli uomini che ancora non hanno conosciuto Dio. Quindi ecco perché è importante testimoniare. Senza la voce la parola non può essere conosciuta, ma senza la parola la voce è soltanto un verso animalesco. San Giovanni dice di se stesso sono una voce che grida nel deserto. Che senso ha gridare nel deserto? Nel deserto non c'è nessuno, nel deserto non c'è vita. Eppure il deserto a cui San Giovanni fa riferimento non è il deserto fisico, è il deserto spirituale. E anche questo è molto attuale, perché un tempo la Chiesa diceva, in riferimento alle diocesi che venivano istituite in quelle zone del mondo dove i cristiani rappresentavano una piccolissima, o addirittura una parte insignificante, quasi nulla della popolazione, si diceva in partibus infidelium, cioè nelle regioni degli infedeli. Oggi l'Italia è divenuta in parte i bus infidelium, questa è l'impressione che abbiamo, no? Dove le stesse persone che si dicono cattoliche in realtà ignorano la fede. E noi siamo chiamati a testimoniare, addirittura i sacerdoti, quindi quelli che dovrebbero essere i custodi del sacro, ignorano per buona parte la dottrina cattolica. Allora siamo chiamati a gridare nel deserto, nel deserto esistenziale, nel deserto morale e spirituale che caratterizza la nostra società italiana, ma non solo. Ecco cosa vuol dire essere una voce che grida nel deserto, preparate la via del Signore, cioè predisponetevi attraverso quell'altra, quella quarta virtù che vogliamo aggiungere a quelle tre che abbiamo già detto e che è la virtù di cui abbiamo parlato domenica scorsa, ovvero sia la virtù della penitenza. Grazie come sempre per la vostra attenzione, io vi auguro una santa domenica, terza domenica di avvento, e vi invito come sempre a visitare il nostro sito www.fedecultura.com e ad acquistare, se non l'avete già fatto, il messale festivo tradizionale su morum pontificum così possiamo leggere e commentare insieme ogni sabato il Vangelo proclamato dalla Santa Chiesa. Grazie Santa Domenica ancora a tutti voi. Quest'anno vivi un Natale speciale. Acquista sul nostro sito un buono da regalare a chi ami e sostieni la nostra raccolta fondi di avvento e Natale 2023. Fede e cultura universitas procede anzitutto grazie al tuo preziosissimo sostegno. Le spese da affrontare e le difficoltà da superare sono tante, ma la nostra fede e il nostro amore per la Santa Madre Chiesa è più forte. Aiutaci a diffondere video di qualità per una sana formazione e informazione cattolica. Aiutaci a stampare buoni libri cattolici. Trovi sul nostro sito www.fedecultura.com tutte le istruzioni per sostenere la raccolta fondi Avvento e Natale 2023. da parte di noi tutti. Grazie e buone feste.